Dopo il rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a dopo le elezioni regionali da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca e l'ulteriore rinvio da parte del Sindaco Enzo Ferrandino per permettere una migliore sanificazione degli ambienti scolastici dopo il voto di domenica scorsa, lunedì mattina 8 settembre 2020 la scuola riparte anche nel Comune d'Ischia. Non senza difficoltà, dubbi e preoccupazioni, visto la pandemia in corso, l'aumento vertiginoso dei contagi, l'arrivo delle parainfluenze e l'avvicinarsi dell'influenza stagionale che andrà inevitabilmente a sovrapporsi al Covid-19. Il problema maggiore con cui le nostre scuole stanno facendo i conti in attesa dell'arrivo dei tanto annunciati banchi monoposti con rotelle è la mancanza degli spazi necessari a garantire il distanziamento sociale tra gli studenti. In effetti le aule risultano insufficientemente spaziose per poter consentire agli studenti di una stessa classe di poter essere presenti tutti allo stesso momento all'interno della stessa aula. E così i collegi dei docenti delle varie scuole hanno dovuto ragionare, discutere e decidere su quale fosse la migliore turnazione da adottare. E le soluzioni al vaglio erano tante, soprattutto nell'ottica di cercare di evitare i turni pomeridiani, quelli cioè che nello studio e nell'apprendimento penalizzano maggiormente bambini e ragazzi. E così presso la scuola elementare di Forio i bambini frequentano un giorno sì e un giorno no. Presso l'istituto Mennella di via Michele Mazzella Ischia, gli studenti tra lezioni in presenza e quelli a distanza frequentano esclusivamente al mattino. Presso il circolo didattico Ischia 1, così come è riscontrabile sul sito della scuola, anche si frequenta solo di mattina. Stesso dicasi per la scuola media Giovanni Scotti di Ischia, che sarà frequentata quotidianamente la mattina da tutti gli studenti e in presenza, ma in orario ridotto. Si tratta probabilmente della scelta migliore, in quanto, seppur in orario ridotto, consente agli alunni di frequentare tutti i giorni, in presenza ed evitando gli odiosi e controproducenti turni pomeridiani. Infatti, dalle ore 8 e sino alle ore 13 e 45 circa, sono state create due turnazioni. Il primo turno inizia alle ore 8 e termina alle ore 10 e 45, mentre il secondo ha inizio alle ore 11 e 15 e finisce alle ore 13 e 45. A parte l'alberghiero, dove i turni pomeridiani sono purtroppo inevitabili da anni, visto che da sempre manca il 50% delle aule, nel comune di Ischia le uniche scuole dove sono stati introdotti i turni pomeridiani sono quelle del circolo didattico Ischia 2, e così si è deciso che in alcune settimane i bambini del Montemurri, del Rodari e della Buonocore, dovranno frequentare la scuola dalle ore 13 e 30 sino alle ore 17 e 30. Una scelta, quella decisa dal collegio dei docenti del circolo retto dalla dottoressa Patrizia Rossetti, che sta creando grossi malumori tra i genitori, che per questo sono sul piede di guerra finché si eviti ai loro figli la frequentazione pomeridiana. Personalmente sono consigliere al circolo Ischia 2 da circa 12 anni, e dopo aver chiesto in vano nell'ultimo consiglio di evitare tassativamente ai nostri figli la frequentazione di pomeriggio, anche perché ci sono validissime alternative da poter adottare, stamattina mi sono fatto carico di chiedere nella chat dei consiglieri un incontro urgente tra i rappresentanti di classe, quelli del consiglio di circolo e la dirigente Rossetti. Fosse altro per trovare un momento di dialogo e ragionare insieme su quale soluzione adottare tra quelle che evitino i doppi turni pomeridiani. Ma a distanza di ore non ho avuto ancora nessuna risposta, che a questo punto speriamo giunga quanto prima, anche perché il malcontento tra i genitori continua a crescere.